Musica Guardate, è un pomeriggio di luce, di sole, di cielo e mi trovo sul tetto del Palazzo Pretorio a Prato è un luogo assolutamente privilegiato per parlarvi del nostro terzo concerto di stagione tutto Mozart e questa ambientazione è esattamente ciò che questa musica ci racconta luce, trasparenza, leggerezza, meraviglia, gioco ci sentiamo innalzati come mi trovo ora io in questo momento con Angela Hewitt che suona e dirige nello stesso tempo la camerata strumentale in quattro capolavori di Mozart per pianoforte e orchestra salite sul cielo insieme a me Grazie a tutti